musica ragazzi voglio mostrare questo fantastico libro che è enorme da parte dell'azienda familium e praticamente va a descrivere il nostro albero familiare è un libro appunto per ricostruire la genealogia e scrivere la storia della famiglia infatti possiamo vedere che è un regalo utile per la nonna, il nonno semplicemente anche per i nostri bambini così che possono comunque porsi delle domande scoprire i nostri antenati, che lavoro facevano e appunto scoprire il passato dei nostri antenati è davvero bello perché è un libro comunque destinato a questa ricostruzione della famiglia infatti guardate com'è, è gigante allora, e vediamo qui, vabbè un regalo perfetto appunto per la nonna e il nonno perché loro sanno di più dei nostri antenati il nostro albero familiare, bellissimo infatti qui già si può appendere la foto della famiglia nome di lui e nome di lei lui e i suoi genitori poi c'è lei e i suoi genitori poi comunque della nonna, del nonno il luogo di nascita il lavoro che faceva dove andava a scuola insomma, sono tutte delle informazioni interessanti che poi i nostri futuri figli andranno comunque a leggere e si divertiranno un sacco andranno a scoprire tutto appunto il nonno paterno quindi andranno a scoprire tutti i loro antenati cioè è una bellissima cosa ma anche un bellissimo regalo per i nonni che si divertiranno anche loro a poter scrivere tutto ciò che facevano da piccoli appunto dove vivono durante l'infanzia quindi a sbloccare dei ricordi che anche ovviamente c'è chi ha la bisnonna ma c'è chi purtroppo non ce l'ha più ovviamente anche le nonne o il nonno si ricorderà delle loro mamme ma anche dei loro papà quindi andranno a compilare il tutto oppure comunque i nonni si divertiranno a compilare il tutto con i loro nipoti lo trovo un regalo davvero bello interessante poi divertente e non solo questa versione dell'albero familiare ma ci sono anche altri due libri altri due libri che troviamo è quello dedicato soltanto alla nonna o solo al nonno quindi se dobbiamo fare un regalo comunque specifico per una particolare persona appunto la nonna e il nonno oppure un altro che è quello come cresco quindi va a raccontare tutta la storia del bambino vi lascio il tag qui sotto che potete andare a vedere la sua pagina comunque a visitare i prezzi spedizione e tutto a questo segnalibro è davvero fantastico veramente ve lo consiglio grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti